Ciao, sono Paolo di Backpacko e questo è il podcast degli avventurieri. Oggi parliamo di Buggin'In, come rimanere al sicuro in casa. Vi do il benvenuto al Backpackocast, il podcast di Backpacko. Potete trovare Backpacko su web, su tutti i social, su YouTube. E questo stesso podcast potete vederlo su YouTube o ascoltarlo, e anche vederlo, credo, ormai su Spotify, Google Podcast, Apple Music e cos'altro, Amazon Music. Insomma, tutte le piattaforme di distribuzione dei podcast. Lì troverete chiaramente anche il Backpackocast. Ora però non perdiamo altro tempo e dedichiamoci all'argomento del giorno. Abbiamo iniziato a parlare di prepping, riferendoci a piani di fuga e strategie per lasciare la propria abitazione, per andare verso una zona sicura, insomma, come organizzarsi per scappare. Scappare è sicuramente una soluzione a diversi tipi di problemi. Pensiamo ai disastri idrogeologici o semplicemente a situazioni geopolitiche particolarmente complicate. Beh, scappare è chiaramente una soluzione da avere lì, pronta. Però è anche vero che l'ultima soluzione è scappare, lasciare casa, lasciare tutto quello che abbiamo per andare in un posto, forse per sempre, per andare lontano, forse per sempre, beh, è sicuramente traumatico, è sicuramente complicato, è doloroso. Quindi oggi cerchiamo di coprire tutte le situazioni in cui vale la pena rimanere in casa, barricarsi per bene magari e cercare di uscire il meno possibile, quello che si chiama tecnicamente bugging in e si contrappone, indovinate a cosa, al bugging out. Anche il bugging in, rifugiarsi dentro casa, è un tema che ricorre spessissimo nella letteratura del prepping. Se ne parla tantissimo nei gruppi, nelle associazioni, a differenza probabilmente del bugging out, è qualcosa che negli ultimi anni abbiamo tutti anche ben sperimentato. Esatto, mi sto riferendo ai lockdown che hanno coinvolto più o meno tutto il mondo e che ci hanno costretti a rimanere chiusi dentro casa per diversi giorni, a diverse condizioni e probabilmente i lockdown sono stati uno dei motivi per cui molte persone hanno iniziato a lavorare nel concreto ad allestire dei piani di bugging in. Non si può dire lo stesso del bugging out, di prendere lo zaino e scappare e lasciare casa. Questo per fortuna è una cosa che capita a poche persone, o meglio non è un'esperienza così comune. E quindi mentre di bugging in abbiamo tutti più o meno esperienza, il bugging out lo hanno provato solo coloro che hanno subito dei grossi problemi, poche persone diciamo in confronto. Quindi cosa sto cercando di dire? Sto cercando di dire che già lo sai come fare il bugging in, ok? Già lo sai, lo hai già fatto. Mentre di bug out, get home, le cash box, ne abbiamo parlato e magari non hai avuto modo di sperimentare personalmente queste situazioni, beh il bugging in è qualcosa di cui dobbiamo parlare da pari a pari, perché lo abbiamo provato tutti. E prima di continuare devo lasciare sempre il solito appuntino legale e quindi ricordarvi che il Backpackocast è un podcast ascoltato dagli italiani in diverse parti del mondo, impegnati in diverse attività e che quindi quello che sto per raccontarvi potrebbe essere o non essere legale. Quindi mi raccomando, siate sempre attenti a quello che fate e soprattutto sempre pronti. Perché il bugging in è una materia così importante all'interno del prepping? Beh, lo è perché rifugiarsi, l'idea di rifugiarsi da un pericolo esterno, ti riporta subito a casa. Se ti dico di rifugiarti, probabilmente la prima cosa che pensi è chiuderti in casa, chiuderti in casa. Tra l'altro la casa è anche il tuo castello dove puoi difenderti, è uno scherzo, dove puoi organizzare davvero le tue difese, la tua sicurezza e dove quasi certamente hai già accumulato una buona dose di risorse, una buona quantità di risorse. Attenzione, non parlo solo delle scorte intese come tali, ma è proprio il luogo dove si dovrebbero trovare tutti i tuoi oggetti e quindi effettivamente buona parte di quello che hai o che potresti utilizzare anche in una situazione di pericolo. A questo punto vale la pena farlo immediatamente il solito e classico confronto tra bugging in e bugging out. Quali sono i pro e i contro? Intesi però che spesso non è che si debba scegliere, nel senso che alcune situazioni ci permettono eventualmente di scegliere tra le due strategie, altre situazioni no. Siamo semplicemente lì che dobbiamo o lasciare la zona perché è più sicuro o rimanere chiusi in casa perché è più sicuro. Però, se potessimo scegliere, vediamo un po' quali sono le caratteristiche di uno e dell'altro sistema. Il bugging in è sicuramente una scelta più confortevole perché appunto rimani dentro casa tua. Hai tutto quello che ti serve o comunque ti puoi organizzare, sei in una zona che conosci benissimo, nei minimi dettagli, hai le tue risorse, hai i tuoi collegamenti, hai la tua energia, quindi il bugging in è sicuramente la scelta più conservativa in molte situazioni. Tua moglie ha le sue cose, i bambini hanno i giocattoli, hai la playstation, avete l'avvolamento, lo streaming, insomma, tutto quello che può servire, incluse le risorse probabilmente alimentari perché abbiamo tutti un po' di dispensa e quindi ci sentiamo più protetti a dormire dentro delle mura di cemento piuttosto che magari nel bosco sottotitato. non è detto che sia vero, è solo una sensazione però naturale quella della casa che ci ha accolti per tante notti e che continua durante l'emergenza a proteggerci. D'altro canto la casa è una scatola di cemento nella quale ci siamo noi e le nostre risorse e qualcuno potrebbe essere molto interessato ad accedere a noi o alle nostre risorse. Quindi rispetto all'ambiente esterno, dove possiamo organizzarci in un certo modo, dove possiamo dileguarci in un certo modo, in casa siamo piuttosto in trappola e questo va considerato. Entrambe le soluzioni, bugging in e bugging out, richiedono un'attenta pianificazione perché se, come tutti, avrete vissuto i primi giorni di pandemia, di lockdown, di quel bel merdone che è stato, saprete che non avevate magari in casa tutto quello che vi serviva, che i supermercati, che il lievito era finito, che la gente stava fuori i balconi, eccetera, eccetera. Non è una cosa che si può tanto facilmente improvvisare. In molti lo hanno fatto ed è riuscito pure perché l'emergenza è stata in qualche modo graduale. Immaginate una situazione più a stretto giro, con controlli più serrati, con risorse ancora più scarse, e lì si fa più tosta. Quindi il bugging in non è meno articolato da pianificare del bugging out. Se per fare il bugging out dobbiamo conoscere i percorsi, avere l'equipaggiamento e la preparazione, per fare il bugging in dovremo imparare a gestire delle scorte, le sicurezze della casa, gli intrattenimenti, le risorse, tutto quanto. E anche, magari, il nostro lavoro. Qualora fosse possibile, tanto è capitato a tutti, lavorare a distanza, dobbiamo avere gli strumenti che ci servono per poter rimanere a lavorare a distanza. Mi piace questa cosa che, prima a parlare di bugging in era una cosa leggendaria, il bunker, mi chiudo dentro casa, la casa in mezzo al nulla. Oggi l'abbiamo provato tutti. Sappiamo esattamente quali sono state le difficoltà, però vi invito a riflettere sempre su questo aspetto. È stato un periodo duro, è stato un periodo difficile, difficilissimo per alcuno di noi. Il mio ringraziamento, il mio riconoscimento, va sempre a tutti gli operatori di sicurezza e della sanità che hanno dato il massimo contributo per mantenere le cose in ordine, a quella thin blue line di cui parliamo spesso. Però è andata, appunto, abbastanza bene. Ok? Sono sicuro che qualcuno di voi ha sofferto di più degli altri, lo capisco, però tante cose che potevano andare peggio poi non sono andate così male. Quindi abbiamo avuto un assaggio e per fortuna è stato un assaggio controllato di quello che è fare bugging in. Da lì partiamo e miglioriamoci. Questo è un po' il mio invito. Ok? Non voglio stare lì a discutere. Io ho sofferto di più, no, tu hai sofferto di meno. Non mi interessa. Ognuno di noi ha avuto un'esperienza di bugging in ritornate a quei giorni perché sono la base su cui costruire i miglioramenti che ci servono per affrontare situazioni anche più complesse. Ora, quelli che mi stanno chiedendo sicuramente Paolo, ma qual è l'opzione più sicura? Bugging in o bugging out? Eh ragazzi, dipende da qual è lo scenario che stiamo affrontando. Dipende da tante cose. Il viaggio di bug out è altrettanto rischioso di quanto può diventare rimanere chiusi in casa in una situazione ostile. Quindi non ve lo so dire perché non esiste una risposta valida per tutte le situazioni. Ogni scenario sarà più utile affrontarlo in un modo o nell'altro. Ed è importante che noi non avvertiamo nessuna resistenza nella scelta di uno o l'altro scenario. Che cos'è la resistenza alla scelta? La resistenza alla scelta è quando sai che dovresti fare quello sai che dovresti prendere le tue cose e andartene ma siccome un po' non sei organizzato siccome un po' non sei preparato siccome un po' non sei equipaggiato non lo fai e applichi questa resistenza ritardi la decisione. Ecco, ritardare le decisioni nel nostro prepping è il più grande errore di sempre. Tanto diciamocelo. Poche sono le decisioni irrevocabili nella vita. Se decido di allontanarmi perché la situazione si fa brutta posso sempre tornare se poi non è così. Se decido di chiudermi in casa e evitare di uscire per un paio di giorni posso sempre uscire il terzo. Non stiamo suonando una sirena antiatomica. No, sono tutti quei problemini che dobbiamo affrontare secondo la nostra unica coscienza. E quindi una volta che abbiamo inserito anche il bugging in tra le nostre opzioni nella nostra sfera strategica di prepper allora possiamo parlare di come preparare la casa o la location di bugging in. Sì, tecnicamente si parla sempre di casa tua quando fai bugging in ma non è detto che uno non possa decidere di fare bugging in in una casa diversa. Magari, ecco, questo diventerebbe una bag out location però si tratta di rimanere fermi in un posto, ok? Chiusi in un posto. Chiusi in un posto che è solitamente casa tua. La casa dove correntemente vivi. E questo è importante proprio perché non devi spostare tante cose essendo che sei già in casa. Come succede per le altre strategie una delle domande principali nell'organizzazione del piano è quanto tempo? L'orizzonte temporale. Quanto a lungo pensi di dover rimanere chiuso in casa? Tu e la tua famiglia. Quanto a lungo pensi di dover rimanere fuori in giro a fare bug out? Questa domanda ce la dobbiamo sempre porre. perché le risorse che abbiamo andranno via via diminuendo. E a una certa finisce il cibo, finisce il gas, finisce l'acqua, finisce tutto. Ci rimane solo il tetto per ripararci dalle intemperie. Quindi l'orizzonte temporale a cui tu stai pensando è davvero molto importante. E come ho detto anche in altri casi iniziamo dalle cose facili, dalla roba semplice. E fatti questa domanda. se dovessi rimanere chiuso in casa tre giorni, sono in grado di farlo con quello che ho? Se no, che cosa mi manca? Quali sono le cose che effettivamente potrei aggiungere alle mie scorte, alle mie dotazioni per vivere tre giorni chiuso in casa? La maggior parte delle persone, considerando oggi l'approccio al consumo che c'è, dovrebbe essere già in grado di avere più o meno tutto. Ecco, magari devi prendere quella busta di lenticchie che non ti andavano proprio. Magari devi tirare fuori dal freezer la parmigiana che conservavi per i prossimi mondiali. Magari devi consumare la scorta di vino pregiata che ti ha regalato lo zio, però alla fine, no? In casa ci puoi rimanere. Se però aggiungiamo altri tre giorni a questa equazione, se cominciamo a pensare in termini di una settimana, una settimana è un tempo estremamente lungo da passare chiusi in casa, soprattutto se non abbiamo le risorse, se non abbiamo pianificato la cosa. Quindi iniziamo a decidere qual è il nostro orizzonte temporale. A mio avviso un prepper dovrebbe essere in grado almeno di far fronte intorno alle due settimane di autonomia in casa. Questo è proprio il minimo. Diciamo quelle a cui far fronte con comodità. Poi dalle due settimane al mese di autonomia si può anche andare a recuperare qualcosa che non sceglieremmo per non ci piace. La frutta sciroppata, la pasta, il riso in più, il sugo imbaratto, lo fate voi. Mi sto riferendo a tutte quelle cose che si conservano facilmente, che costano magari anche un po' di meno e che teniamo lì come scorta d'emergenza. Il problema è un altro semmai che finché parliamo di cibo il cibo lo metti da parte, dai si può fare. Prendi un po' di razioni d'emergenza, un po' di cibo disidratato, un paio di secchi, a voglia, sei a posto. Però quando vi dico energia elettrica, acqua, acqua potabile e non, perché in casa serve una e l'altra, i riscaldamenti, il gas, sistemi di cottura, ecco se iniziamo a pensare ad un mese senza le linee di approvvigionamento e le utenze, eh ragazzi miei, un mese è lunghissimo, un mese è tosto da portare avanti con la torcia frontale, poi si scarica anche quella. Quindi è interessante come esercizio. Innanzitutto assicuriamoci questi tre giorni, poi allunghiamoci ad una settimanella e poi piano piano facciamo uno sforzo per arrivare a 10-15 giorni, da lì in poi con tutta la calma si incrementa. Poi entro nel dettaglio di questo, è giusto per darvi un'idea, uno schema. Chiaramente, non voglio fare l'ingenuo, nel momento in cui uno sceglie di rimanere in casa e ha delle risorse, deve anche applicare una politica di grey house, di grey man, cioè questo concetto per cui anche la casa da fuori non deve sembrare una sede piena di tecnologie, di risorse. Quindi la casa da fuori deve sembrare una casa normalissima. Io avevo anche delle bellissime antenne per il radioascolto sul tetto, mi divertivo un sacco. Ora ho deciso, in funzione di questo, di rimuoverle e di applicarle solo quando mi serve. E poi tutti quegli accessori che fanno della casa un posto fisicamente più sicuro, in fissi più robusti, magari le inferriate, porte blindate, sistemi di videosorveglianza, antifurto, eccetera. Questo è davvero importante perché in situazioni particolari la casa potrebbe diventare per noi davvero l'ultimo baluardo da tenere con le armi in mano. Non voglio esagerare in questo discorso, ma nemmeno farlo sembrare troppo facile. Ci sono stati dei casi in cui persone, operatori, hanno dovuto difendere posizioni all'interno delle abitazioni. E difendere una posizione non è banale, non è affatto banale. Bisogna organizzarsi, pensare all'equipaggiamento, pensare alle sorveglianze, a rendere la vita difficile ai cattivi. Uno degli esempi che si fa spesso in questi termini è anche la possibilità di oscurare casa all'esterno. Cioè fare in modo che da fuori non sia proprio possibile rendersi conto se in quella casa c'è o meno della gente. Questo potrebbe essere utile in alcuni casi, ovviamente, quando io ad esempio voglio anche rimanere sveglio la notte, attivo, attento, fare le mie cose, e nello stesso tempo chiudere tutto seriamente all'esterno. Quindi la tendina non va bene, il lucernaio non va bene, perché tradirebbe la mia presenza. Il caminetto col fuoco non va bene, la casa non è più invisibile, ma improvvisamente abbiamo degli elementi che con estrema facilità ci dicono ma tu guarda, lì c'è qualcuno, evidentemente lì c'è qualcuno e ha pure le risorse perché sta accendendo la luce, perché sta tirando fuori il fumo, magari viene fuori l'odore della braciola e via. Quindi mi raccomando, se pensiamo alla sicurezza della casa non focalizziamoci solo sulle inferriate, il recinto elettrificato, le postazioni bunker da cui far uscire le pistole, pensiamo anche ad avere un basso profilo. Una casa con antenne extra, con pannelli solari da tutte le parti, con il gippone parcheggiato davanti, resta sicuramente molta curiosità soprattutto agli occhi di chi? Agli occhi di chi sta cercando risorse, tutto qua e sono proprio quelle persone che noi cerchiamo di evitare. E poi c'è una cosa che potremmo imparare dalla storia, dalla storia. Quando si costruiva un castello spesso si tendeva a immaginare dei livelli di sicurezza, dei livelli di resistenza all'assalto. Questo aiutava in termini proprio progettuali, a pensare ad una prima difesa sulle mure, poi un ponte magari in levatoio interno, poi addirittura un'altra torre con un altro ponte. Sto facendo l'esempio del castello di Sermoneta se non si è capito perché è quello che mi sta venendo in mente. Ma trovate migliaia di fortificazioni perché la storia delle fortificazioni e delle fortezze è ricchissima nel nostro territorio e in Europa e ci danno degli spunti. è anche bello vedere come nel tempo si sono modificate perché erano diverse le armi che venivano utilizzate negli assalti. Perché ho fatto questa piccola parentesi storica perché mi piace imitare Barbero? no, mi piacerebbe mi piacerebbe saperne quanto è lui lo adoro. Però il motivo per cui ho fatto questa piccola parentesi storica è un altro è che l'idea di livelli di difesa è ancora corretta. Dunque immaginiamo chiaramente una casa a due piani una casa a due piani una villetta indipendente a due piani una casa in campagna indipendente a due piani e avremo sicuramente una prima difesa nella cinta perimetrale avremo un recinto un cancello eccetera quindi in quel caso già riuscire ad individuare un tentativo di effrazione un avvicinamento con delle telecamere è già tantissimo. Poi abbiamo il portoncino il portone d'ingresso ed è e le finestre accessibili al pian terreno o comunque le finestre accessibili dall'esterno e lì è la seconda linea di difesa. Poi abbiamo magari all'interno i piani separati da un'unica porta che può essere a sua volta blindata e ancora potremmo pensare di costruire una panic room cosa sono queste panic room? Ce ne sono di diversi tipi l'idea è avere una stanza fortificata quindi con inferriate fortificate con ovviamente la porta fortificata e almeno qualcosa con cui comunicare con l'esterno e o difendersi quindi questa è un po' l'idea di base poi uno se vuole si organizza ancora meglio e si diverte magari un giorno parliamo proprio delle panic room comunque delle zone in cui tenere proprio da cui tenere sotto controllo tutta la proprietà e allo stesso tempo essere nel posto più sicuro della stessa e lo so e lo so è arrivato il momento del bunker Paolo ma che ne pensi se costruisco un bunker sotto casa quello del bunker legato al prepping è un tema ricorrente sempre più divertente il bunker guardate ci dedicherò una puntata ne parleremo vedremo un po' in linea di massima sono estremamente costosi da realizzare da mantenere e alla fine sei di nuovo in una scatoletta ok sei sotto casa in una scatoletta a meno che non riesci a renderlo davvero impossibile da individuare e ti voglio lì rimani chiuso in una scatoletta hanno avuto molto successo durante chiaro il pericolo atomico durante la guerra fredda dove si temeva un attacco nucleare su vasta scala e questi bunker dovevano riuscire a proteggerti se mai avete preso in mano un videogioco di Fallout della serie di Fallout potete vedere un po' come andrebbe a finire comunque effettivamente il bunker anche negli Stati Uniti nella letteratura nella cinematografia legata al prepping è un tema ricorrente è una soluzione valida magari sì se ti dà conforto se ti dà sicurezza sì io penso che prima di arrivare a un bunker ci sono tante altre cose che sono più efficaci del bunker da fare e quindi boh se proprio ti avanzano magari farlo e a nulla serve avere una casa protetta se non è almeno in un certo senso autosufficiente cioè tutto funziona se noi non siamo costretti ad uscire o meglio a volte ci viene proprio vietato di uscire e quindi ok ma è proprio l'idea di uscire di casa e rientrare con le buste della spesa che è comunque da indicazione a tutti del fatto che quella casa è abitata ecco questa idea qui potrebbe venirci contro e allora la casa dovrebbe puntare ad essere autosufficiente non tutti gli scenari sono tragici quindi ci mancherebbe altro scenario normalissimo in cui potremmo decidere di rimanere in casa è che viviamo in città ci sono delle agitazioni sociali cominciano a spaccare le vetrine sotto come si è visto mille volte in mille situazioni noi vogliamo chiuderci in casa con sicurezza per un giorno o due quello che è quello che serve e allo stesso tempo evitare di uscire perché perché lì sotto c'è la rivolta quindi non voglio uscire voglio essere in un posto sicuro quando però si prolunga l'emergenza quando si prolunga l'idea di bugging in la casa comincia a scricchiolare perché deve essere autosufficiente e che significa questo ovvio che la prima cosa a cui mi riferisco sono le scorte dei beni di prima necessità quindi sì cibo acqua acqua da bere acqua per lavarsi avete mai passato più di qualche giorno senza acqua nell'abitazione avete visto com'è difficile mantenere l'igiene dei servizi igienici se non avete una scorta d'acqua un pozzo una fonte alternativa da cui recuperare per lo meno dell'acqua da usare per lo scarico si complica la vita si complica immaginiamoci in città una situazione di questo tipo e immediatamente diventa pericoloso anche nelle case di campagna anche nelle case indipendenti questo può essere importante come problema quindi sì una scorta d'acqua a tutto tondo che potrebbe servire un po' per tutto sarebbe utile di averla quando deve essere grande la scorta Paolo e ragazzi quanto deve essere lungo il periodo in cui rimanete in casa è sempre lì ci sono soluzioni un po' alternative tipo dei vc chimici che si potrebbero sistemare o il vc a sacchetti che è una delle mie soluzioni preferite cioè è un secchio su cui metti un sacchetto di plastica fai tutte le tue cose chiudi bene e butti via o conservi se devi quindi va bene così però se vogliamo alzare l'asticella iniziamo a pensare anche all'assenza di energia elettrica non ci crederete ma in una casa moderna quasi tutto funziona ormai con l'energia elettrica e ok magari i riscaldamenti vi sembrano funzionare senza energia elettrica ma le caldaie sono tutte anche collegate alla rete elettrica ma i termostati ora sono collegati anche alla rete elettrica e a quella di internet l'energia elettrica è la prima preoccupazione dopo l'acqua e il cibo perché se ho l'energia elettrica e un po' d'attrezzatura riesco effettivamente a sopperire alla cucina al riscaldamento al rinfrescamento che pure serve se chiudiamo tutta casa in agosto abbiamo bisogno del fresco e a tante altre cose conservazione del cibo cibo più fresco cibo più buono ricambio d'aria eccetera eccetera illuminazione vabbè videosorveglianza quindi una buona idea è iniziare quando vogliamo alzare l'asticella dal fabbisogno energetico in termini di energia elettrica dell'abitazione e quindi magari sì installare dei pannelli solari che ok ho detto che non dobbiamo mettere i pannelli solari se magari siamo gli unici ad averli ma oggi ce li hanno tutti quindi il pannello solare sul tetto non è sicuramente lì per indicare una casa speciale rispetto alle altre ci sta e funziona e va bene se poi magari abbiamo un campo di pannelli solari perché dobbiamo conservare l'energia per decenni ecco quello magari potrebbe essere un po' più indicativo di risorse quindi una fonte di energia elettrica alternativa a quella della rete potrebbe cambiare parecchio le cose per noi per quanto riguarda il gas vi ricorderete che una volta c'erano le care buone vecchie bombole del gas quindi a seconda della vostra strategia potrebbe essere utile allestire una cucina magari una cucina che funziona sì con la rete domestica ma anche con alcune bombole alcuni serbatoi privati comunque proprietari è vero pure ragazzi che alla brutta con l'energia elettrica uno fa tutto riesce a cucinare l'acqua invece di farla bollire con la pentola usi un bollitore la pasta invece di farti la pasta ti fai un altro tipo di cottura insomma risolvi quindi la prima cosa per me è proprio l'energia elettrica questo anche funziona nel fatto che tenere una riserva di carburante è possibile solo entro certi limiti legali non si possono magari stoccare 20 o 30 bombole di gas tutte vicine per ovvi motivi di sicurezza quindi cerchiamo di giocarcela in questo modo e poi dipende dall'emergenza non tutte le emergenze ci costringono a rimanere chiusi in casa e a voler evitare di essere visti la maggior parte come quelle che abbiamo vissuto nella pandemia nessuno ti diceva niente se tu uscivi in giardino con la tua carbonella a fare il tuo bel barbecue e passavi pure una bella giornata quindi ci sta ecco in termini di calore semmai e temperatura temperatura vivibile a casa ovvio che i condizionatori che fanno caldo e freddo sono anch'essi molto voraci di energia elettrica quindi non è facile far funzionare tutto con gli accumulatori e i pannelli solari magari funziona per qualche giorno poi si inizia subito a notare che l'energia che stiamo consumando è di più di quella che stiamo mettendo dentro gli accumulatori e allora si potrebbe pensare di tamponare con dei gruppi elettrogeni si mette il carburante si avvia e quello funziona abbastanza bene ce ne sono di tutte le dimensioni per tutte le tasche chiaro che lì anche stiamo dicendo questa casa è abitata c'è il gruppo elettrogeno acceso anzi c'è bisogno anche solitamente di un po' più di spazio eccetera però nei dettagli poi uno si organizza e comincia a dire voglio il gruppo elettrogeno lo voglio sistemare in questa zona mi faccio il mio tubo di scappamento mi faccio tutto quello che è necessario per vivere bene in sonorizzo e comunque ho un sistema più cose dobbiamo collegare ad un gruppo elettrogeno più costerà e consumerà e su questo non ci piove poi ci sono due aspetti che non sempre vengono fuori quando parliamo di bugging in uno è sicuramente quello delle comunicazioni siamo tutti dipendenti da internet ormai per qualsiasi cosa vuoi vedere un film hai bisogno di internet la tv si deve collegare ad internet vuoi leggere le notizie hai bisogno di internet provate a staccare internet nella vostra abitazione per un paio di giorni e vedrete le persone prendersi con le mani al collo perché siamo tutti effettivamente abbastanza dipendenti da internet vuoi controllare se ti sono arrivati i soldi di un banca ma sapevi che puoi farlo anche con il cellulare puoi anche telefonare c'era questa cosa una volta della banca via telefono e invece ora tutto inter tutto un'app quindi ecco bisogna considerare che se mancasse internet molte cose che siamo abituati a fare non le potremmo fare anche i videogiochi non funzionano più senza internet la maggior parte bella storia bella storia questo è un problema perché chiusi in casa senza niente da fare diventa difficile e senza conoscere magari le notizie diventa anche ancora più difficile perché dico senza conoscere le notizie ma io posso vedere la tv posso prendere una radio ed ascoltare è perché mi mancherà quello che io ormai ritengo l'autenticità della notizia cioè sentirò la fonte ufficiale di una notizia ma non avrò il riscontro di internet che mi dà la conferma o i report delle persone sul posto che mi dicono effettivamente come stanno le cose immaginate un paese che viene invaso da un altro paese e l'invasore per prima cosa stacca le comunicazioni quindi sì puoi ascoltare il tg puoi ascoltare la radio ma nessuno ti dà conferma che i tuoi cari stanno bene nessuno ti dice che cosa sta succedendo in quel posto preciso nessuno ti dice nemmeno magari in che direzione sta avanzando il nemico e tutta questa mancanza di informazioni ti rende la vita impossibile ecco perché essere radioamatori imparare ad usare la radio ti rende indipendente sotto questo punto di vista imparare a usare la radio ti dà una risorsa in più e qualunque prepper in casa dovrebbe avere delle radio ed essere capace di usarle anche se non è radioamatore io sono abbastanza tranquillo su questa cosa qui si può imparare ad usare una radio anche senza essere radioamatori tanto ormai sono abbastanza semplici bisogna solo sistemare due cose non si può usare una radio se non siete radioamatori non una di quelle radioamatoriali ma ovviamente potete chiaramente imparare ad usarla attenzione a una cosa ci sono tanti tipi di radio che richiedono a volte degli specifici tipi di antenna e questo è un po' il pacchetto comunicazioni radio casalingo una buona radio un paio di buone radio una radio per l'ascolto da dare anche come intrattenimento al resto della famiglia e ovviamente un parco antenne utile da montare alla bisogna per ricevere ed effettuare comunicazioni non è uno sforzo eccessivo neanche economicamente è davvero più un divertimento che altro però può fare la differenza in alcune situazioni e anche con i nostri cari dovremmo cercare se ci sono dei sistemi di comunicazione alternativa e non è male avere la possibilità di comunicare con i nostri parenti attraverso ponti radio di sentire come stanno se le cose vanno in malora lo so che tutto questo sembra esagerato e di fatto uno non deve applicare immediatamente tutto quello che dice Paolo di Backpack il mio consiglio è sempre lo stesso muoviamoci per gradi prendiamoci una prima 3-4 giorni di autonomia in casa abbiamo quello che ci serve abbiamo qualche libro da leggere abbiamo qualche fumetto per i più piccoli qualche DVD o qualche film nelle chiavette scaricatelo fate come volete abbiamo un po' di intrattenimento abbiamo il cibo abbiamo l'acqua per l'igiene abbiamo l'acqua da bere abbiamo la carta igienica e il lievito per il pane insomma quello è il minimo pacchetto di 3 giorni poi si passa ad una settimanella 2 settimane e poi se decidi di andare oltre lo vedrai lo sistemerai anche una settimanella può essere tosta da passare senza i riscaldamenti ad esempio una stagione bella fredda e allora si che lì bisognerebbe avere dell'equipaggiamento da outdoor da vestire dentro casa ma ne parleremo ne parleremo perché voglio affrontare entrambi le situazioni climatiche bugging in magari con l'estate e bugging in durante i climi eccessivamente freddi durante i periodi eccessivamente freddi c'è un altro punto che voglio trattare l'ultimo dai di questa storia della casa che deve adattarsi i rifiuti fermatevi passando su una qualsiasi strada e osservate il secchietto dei rifiuti quello che avete portato voi poi prendete il secchietto dei rifiuti e moltiplicatelo per i giorni che pensate di rimanere in casa è ovvio che ne farete una montagna è ovvio che ne farete una montagna il problema è che magari potreste essere non in condizione di andarle a buttare proprio per quel discorso che facevamo sono in casa ho chiuso casa l'ho isolata quindi non voglio che si veda un tizio che esce fuori a buttare la spazzatura qual è il vostro piano in questo caso come pensate di risolverla non è affatto semplice i rifiuti diventano facilmente voluminosi e maleodoranti quindi bisogna procurarsi in questi casi dei contenitori ermetici abbastanza importanti ma la cosa più intelligente da fare è sempre pensare di farne di meno e sempre cercare di ridurre la quantità di rifiuti poi con un po' di intelligenza separando molto bene i rifiuti sporchi e umido da una parte da quelli puliti riusciamo anche a stoccarli in modo che non si sviluppino cattivi odori anche qui grande differenza tra estate e inverno ma tipo una differenza grande come una casa in estate dopo due giorni arrivano le mosche a ronzarvi nelle orecchie in inverno col freddo se abbiamo uno sgabuzzino qualcosa che non riscaldiamo anche meglio i rifiuti possono stare molto tempo pensate solo a una cosa mi fa sempre interessante sapere questa cosa qui che nelle navi da crociera ci sono dei contenitori per rifiuti refrigerati proprio perché la nave da crociera è una mega cittadina che viaggia per tanti giorni produce tonnellate di rifiuti è sotto al sole e quindi devono tenere questi rifiuti al fresco per evitare che producano cattivi odori ora che però abbiamo parlato di autosufficienza voglio anche sfatare un po' il mito della casa autosufficiente per sempre eh ma i nostri nonni avevano le galline i conigli la mucca per il latte eh sì però lo sapevano anche fare c'è qualcuno di noi che sa farlo che ha una casa fattoria con tutte le risorse l'orto la carne ovviamente le uova tutto quello che vi pare ed è ottimo lo apprezzo anche il problema è che non tutti possono permetterselo non in termini economici in termini di stile di vita avere una casa con tutte queste risorse è sicuramente prezioso però quanta fatica quanta fatica quanto tempo quanto impegno e anche l'obbligo di stare ovviamente fuori città non cresci mica i maialini all'interno ah no ora si crescono i maialini anche nelle città però per capirci una casa fattoria indipendente è una bella cosa da mantenere è tanta roba da fare e devo anche dire che secondo me rappresenta un po' un azzardo morale rappresenta un po' un problema quando devi lasciarla se hai speso tanto tempo ed energie nella tua bugging in nella tua casa nella tua strategia voglio rimanere qui tengo botta c'ho i fucili c'ho le munizioni c'ho le galline il maiale tutto quello che avevano i nostri nonni ma se hai speso tanto e poi la soluzione migliore è quella di lasciarla credo che investire tanto in una strategia ti porti ad essere un po' fissato su quello un po' quello è il discorso che facevo sul bug out vehicle spendo un sacco di tempo soldi energia a preparare il mio fuoristrada gigante prepper e poi magari non è la cosa migliore da fare magari è meglio scappare a piedi non lo faccio perché c'ho quello e devo usarlo che me lo sono preparato quindi queste sono piccole trappole che ci portiamo dietro nella preparazione investire troppo in un piano convincerci che quello è il piano migliore non funziona mai non può funzionare dobbiamo essere sempre flessibili dobbiamo essere rapidi nelle nostre decisioni senza rimanere troppo attaccati a quell'idea di progetto emergenziale che però abbiamo solo nella nostra testa e poi bisogna anche parlare di chi vive in città in condominio che vuole fare bugging in ovviamente dentro un appartamento ovviamente impossibile quasi impossibile evitare che gli altri lo sappiano però il condominio potrebbe diventare una perfetta comunità prepper perché nel condominio potreste già avere tante persone sì che nessuno ci va d'accordo però potreste già avere tante persone tante risorse per fare le cose il condominio è il posto dove posso trovare una famiglia che mi tiene i bambini un po' di tempo mentre io esco fuori a cercare risorse o a prendere i pacchi di cibo per l'uno e per l'altro il condominio è il posto dove posso trovare il tizio che mi aiuta a sistemare le antenne sul tetto e fare comunicazioni il condominio è una comunità che se la coltiviamo se la coltiviamo bene diventa una risorsa prepper si può fare tutto in condominio e ora parliamo di quell'aspetto che abbiamo davvero sperimentato tutti e neanche me la sendo di dirvi tante cose su questo perché appunto lo sapete già lo sapete già ci siamo passati mantenere la normalità mantenere la normalità durante una situazione di crisi in cui facciamo bugging in è complicato non perché sia difficile trovare qualcosa da fare in casa non mi dite questo alla fine ti compri il libro ti ordini questo ti ordini quell'altro ti mandi a prendere il lozano da trekking da backpack così inizi a sistemarti tutte le cose e ti fai la tua avventura ti programmi la tua avventura non è quello l'aspetto davvero importante l'aspetto importante è quando tu sei a casa e il mondo fuori è instabile è quello che ti logora non va bene ora non lavoro non so che fare oh no mi devo vedere Netflix per tre giorni di fila o per una settimana poverino non è quello è che non sai che sta succedendo quella è la parte più complicata hai i tuoi problemi hai i parenti lontani che senti hanno bisogno di te hai i bambini che devono andare a scuola devono fare la dad ti fanno uscire di testa hai il lavoro che ora c'è ma non sai se ci sarà perché il mondo sta cambiando e quindi non sai come si metterà ti chiudono l'attività tu devi capire come fare prendere i sussidi se ci saranno è questo che ti logora non rimanere in casa questa è la sottostima che si fa sempre nella situazione d'emergenza cioè si crede che il problema di rimanere in casa sia quello che sei in casa no no siamo tutti stati a casa per un'influenza per un malanno post-operatorio per qualcosa siamo tutti rimasti a casa per qualche motivo e non è successo niente anzi è piacevole è piacevole beh non per tutti ma per buona parte delle persone è piacevole rimanere un po' in famiglia fare qualcosa quello è piacevole il problema è che non l'hai scelto il problema è che il mondo fuori sta diventando più complicato per te forse anche più pericoloso e allora non sai cosa fare e allora è difficile rimanere in casa in un certo senso il bug out è più facile perché hai comunque da percorrere una strada hai un obiettivo stai percorrendo una strada stai andando da un'altra parte e quindi ti senti in movimento ti senti verso la soluzione il bug in in invece ti obbliga a rimanere lì ad aspettare che tutto sia giusti fuori ma si aggiusterà e dentro quanto si aggiusterà questi sono secondo me a parte tutte le cose tecniche sulle scorte l'energia la sicurezza le armi questi sono gli aspetti più importanti dell'idea di bug in in e siccome l'abbiamo davvero vissuto tutti sulla nostra pelle vi ricorderete di quanti litigi di quanti casini di quante coppie si sono tra l'altro poi separate dopo questi periodi di convivenza forzata la convivenza forzata ve lo dico chiaro la convivenza forzata è una tua responsabilità sei un prepper hai deciso di fare bug in in con la tua famiglia hai deciso siete obbligati a fare bug in in far funzionare questo è una tua responsabilità sei tu che ti devi piegare sei tu che devi assecondare gli altri e fare in modo che siano sereni e felici è una tua responsabilità è la più grande responsabilità che hai non venire da me a dire che gli altri faranno diranno saranno fastidiosi i bambini sì è così è una situazione di emergenza quindi indossa la divisa da prepper è prenditi le tue responsabilità occupati della tua famiglia occupati dei tuoi cari stabilisci delle routine fai in modo che i ragazzi se devono fare delle cose studiare fare i compiti giocare abbiano tutto quello che devono sii di supporto alla tua compagna compagno alla tua famiglia sii tu il primo a prendere questa situazione sulle spalle perché solo in questo modo ispirerai anche gli altri a fare lo stesso con te se sei gentile riceverai gentilezza o comunque un comportamento neutro ma se cominci ad arrabbiarti ad urlare ad innervosirti questo rende tutto più difficile e quindi sì la mia opinione è questa quando arriva il merdone ognuno deve prendersi il proprio carico però se tu in quel momento hai sufficiente coscienza risorse autocontrollo lo devi usare tutto lo devi usare tutto devi essere in grado di piegarti di permettere agli altri di sfogarsi anche su di te e andare avanti questa è la mia opinione non sono psicologo non voglio dare consigli di questo tipo però è un atteggiamento che ritengo produttivo quindi è il mio atteggiamento e lo condivido con voi non voglio però neanche banalizzare è quello che può succedere a noi stessi cioè dover convivere con delle persone in uno spazio ridotto è un po' una cosa che può dare fastidio quindi cercatevi delle zone magari ve le dividete delle stanze in cui uno può prendersi un paio d'ore di relax e non avere rotture di palle da tutti gli altri una stanza del relax la metti là con il divanetto con tutto quanto così a giro si scarica un po' quella tensione si riesce a rimanere in solitudine a fare i propri pensieri e a sviluppare le proprie riflessioni e comunque in queste situazioni è sempre bene avere degli intrattenimenti magari collettivi nei buoni vecchi giochi di società che poi ora si chiamano giochi da tavolo tabletop sono dei giochi fantastici procurateveli provatene qualcuno tenetene qualcuno nascosto ai bambini così nel momento del bisogno uno lo tira fuori e c'è anche l'effetto novità c'è il gioco lo tiro fuori c'è lo spacchettamento sfustelliamo le robe leggiamo il regolamento insomma va via un pomeriggio e mezzo appresso ad una scatola di cartone e intrattenimenti multimediali dispositivi da lettura libri chi a casa non ha qualche libro che non ha letto ce l'abbiamo tutti però pensate anche ai bambini un buon modo è quello di tenere una scatola di giochi intrattenimenti risorse inedite nascosta tanto trovano tutto nascostissima e quando succede una cosa del genere se decidete per il bugging in allora si tira fuori una cosa alla volta e piano piano l'attenzione viene gestita altro modo ancora è quello di dare dei compiti precisi a ognuno se uno di noi è dedicato a ricaricare le torce allora sarà lui che ricaricherà le torce le chiederà in giro a tutti le metterà sotto carica e poi le riconsegnerà un altro sarà dedicato magari a portare l'acqua da un piano all'altro un altro cucinerà eccetera eccetera questa sorta di routine ci dà delle cose da fare che comunque ci fanno sentire impegnati e aiutano a passare molti momenti e poi parlo per voi trovatevi un hobby magari economico come intagliare il legno a me piace molto intagliare il legno è una cosa che ti costa un coltellino o due qualche taglio qualche cerotto e niente ti devi mettere lì col tuo pezzetto di legno e giochi ed è molto piacevole molto piacevole è rilassante ed è una di quelle cose ti fa il tuo kit sta da una parte quando vuoi ci giochi e sei contento sì anche ricaricare le munizioni è un bel hobby se uno tende più da quella parte lì e in chiusura voglio ricordarvi la cosa che per me ha il più grande valore fare tesoro dell'esperienza non è piacevole fare esperienze da prepping perché sono sempre dei traumi sono sempre dei grossi merdoni che ci arrivano addosso però una volta che l'abbiamo vissuto una volta che li abbiamo superati possiamo fare esperienza della nostra storia e di quella degli altri quindi cerchiamo di rivivere quei momenti che abbiamo già vissuto nel caso del bugging in ne abbiamo tutti da raccontare cerchiamo di ripercorrerli e di capire cosa possiamo migliorare ragazzi sembra brutto dirlo ma per un prepper non c'è una cosa più preziosa di una crisi che è già finita una crisi una volta che è finita ti lascia tutte le domande e anche tutte le risposte a volte su quello che devi fare per vivere meglio le prossime crisi detto questo vi auguro che non sia stata una puntata troppo ansiogena perché so che molti hanno vissuto male il periodo di bugging in e tuttavia andava detto andava fatto è una buona strategia ed è un ottimo punto di partenza sistemare un po' con meglio casa con piccole cose ma strategiche per avere una zona che diventa la nostra fortezza e ti ricordo che tutto il migliore equipaggiamento per prepper lo trovi su backpacko.it così come devo dirti anche che backpacko non è solo un podcast ma su youtube esce un video ogni giorno e non vorrai perdertene neanche uno quindi corri ad iscriverti se non l'hai fatto e schiaccia anche la campanella per questo video lasciami un bel mi piace oppure delle stelle se stai usando le app di ascolto per i podcast ora è davvero tutto ragazzi vi ringrazio per l'ascolto e rimaniamo preparati grazie a tutti grazie a tutti